C2 Ciclo di scarico Premi il tasto scorrimento per selezionare il programma C2. Tieni premuto il tasto Start fino a quando non diventa di colore blu. Solleva la capote. Rimuovi i filtri ed il troppo pieno. Abbasso la capote. Il ciclo ed il countdown inizieranno automaticamente. Una volta terminato il ciclo, la scritta Off comparirà sul display. Grazie